Non solo politica ma anche lotta all'andrangheta. All'incontro di Diamante del Movimento 5 Stelle ha partecipato anche Pino Masciari, imprenditore catanzarese che dal 1992 ha iniziato la sua lotta contro il racket. Tutto è iniziato con un no che si è tradotto subito in vessazioni e pressioni. Oggi Masciari è ancora qui e la sua testimonianza è una speranza per tutta la Calabria. Io sono calabrese, sono orgoglioso di essere calabrese, un po' meno forse degli uomini calabrese perché per paura si piegano. L'etica, la moralità non sappiamo più dove stanno, non ci sono comuni, non ci sono operazioni che fanno le forze dell'ordine dove sempre rappresentanti infedeli dello Stato, delle istituzioni sono collusi con esse. È un'Italia ormai dove la corruzione, le mafie, il malaffare l'ha fatto da padrona. Mi dispiace quando si parla degli imprenditori onesti, troppo pochi sono gli imprenditori onesti perché spesso quella paura li rende complici di un sistema malato. Ma lei è deluso dallo Stato, dalle istituzioni? Guarda, lo Stato sono io, lo Stato è lei, lo Stato siamo noi. Sono le istituzioni, come tali io li rispetto tutti. Sono gli uomini che rappresentano le istituzioni e che non le rappresentano egregiamente è consenso del dovere, consenso di Stato. Oggi è la rincorsa e tutti quanti cerchiamo di correre per conquistare potere. Io sono disposto a morire per lo Stato perché mi sento un servitore dello Stato, perché io sono lo Stato, noi tutti siamo lo Stato e noi siamo la colpa di tutto quello che accade ogni giorno. Abbiamo ucciso le speranze dei nostri figli. I nostri figli non possono più sognare perché sognano oggi solo, magari, se hanno fortuna di avere un posto di precariato. Un messaggio da Diamante lo vogliamo lanciare? Io sono venuto qui, è la prima volta che vengo qui a Diamante e per dire il vero, vedo che c'è poca gente, oggi c'è bisogno proprio di tutti, di tutti. Nessuno si può sentire escluso di dire a me non interessa, mi volto dall'altra parte.